Come è mutato il tuo poetare dal volume ISBN a questo e anche da quello precedente che troviamo qui, Fiaschi, e poi come sono nati gli ultimi testi, quindi quelli che sono finiti in Le cose sono due, gli inediti, e che significato ha questo settenario di cui parlavo prima, questo titolo? Fiaschi è uscito nel 2009, quindi in realtà non tantissimo tempo fa, però contiene poesie che erano precedenti di una vita che mi sembra una vita fa, poi ovviamente tra i 25 e i 35 adesso ho 35 anni, si passano delle fasi molto diverse della vita. Ecco, mettendo assieme le poesie uno si accorge, riava un ritratto di sé, riceve indietro un ritratto di sé negli ultimi tempi, negli ultimi anni, e io mi sono accorto raccogliendo un po' queste poesie in modo rapido, veloce, perché i tempi dovevano essere quelli, che erano stati degli anni non proprio esaltanti, gli ultimi due, e quindi ho diviso il libro in due sezioni, e qui le cose sono due, appunto, una o diciamo più vicino, chiamate uno e due, non ho molta fantasia, la prima sezione che raccoglie poesie, diciamo così, che stanno dal lato, dal polo della vita, e la seconda sezione dal polo della morte, diciamo così. I giorni in cui non parli con nessuno, le cose sono due, o arrivi a cogliere il senso di tutto, o confondi, corrompi, ti ingarbugli, e la tua voce che chiama il gatto è quella alla sera di un crooner, eccoti i miei rimasugli, l'eco rauca e lunga nella notte che ti riprende in scacco.